Poletti apre, Fucci chiude, è 1-1 tra Brillacampi e Spinazzola con gli ospiti che si salverono nel recupero grazie al guizzo di un subentrato. I Salentini vanno più volte vicini al raddoppio per poi essere beffati nel finale. Ottima comunque la reazione degli Spinazzolesi dopo un primo tempo ampiamente insufficiente. È un Brillacampi gasato dopo i pareggi di lusso contro Polimni e soprattutto Barletta. Mister Antonio Patruno rimette la zona playoff nel Mirino affidando le sorti del peso offensivo al trio Diop facecchia Poletti. Dall'altro lato in acque paludose Zinfollino schiera tra le linee il nuovo arrivato Andre Garcia. Bonanno incaricato nel dare qualità e velocità in corsia. Mettono subito le cose in chiaro i Salentini. Bella trama a sinistra. Maniglia premia sul secondo palo l'inzuccata di Poletti che fa 1-0 dopo neanche due minuti. Fatica a carburare lo Spinazzola. Dall'altro lato il Brillacampi ha un paio di marce di vantaggio. Diop semi nel panico scavalca l'iso con lo scavetto ma il palo a dirgli di no. Gli ospiti in affanno nel seguire i movimenti degli attaccanti. Poletti evita Dignelli. L'iso se la cava in respinta. Poi tocca a facecchia staccarsi dalla marcatura. Bel diagonale fuori davvero di poco. Lo Spinazzola resta in partita grazie al suo portiere. Poletti vada a facecchia. L'iso è eccellente nella respinta ravvicinata. Un intervento che vale l'1-0 all'intervallo. Minimo vantaggio che sta stretto ai Salentini. Più Vispo lo Spinazzola nella dipresa. Il primo tentativo di marca ospite arriva al 51esimo. Bordata di Cappellari su cui ci vuole un super carriero. Il Brillacampi abbassa leggermente il suo raggio d'azione. Diomandè e Mbaie combinano bene. Caruso cestina un gol praticamente fatto. Calciando debolmente. Girandola di Cambi tra i Salentini dentro anche Romero che nel finale si mette in moto. Assis per Attanasio. Botta che c'entra la traversa. Si salva l'iso. Sembra cosa fatta per i giallorossi ma non è così. Corner Spinazzola. Confusione. Il gambone di Fucci da terra. La piazza alle spalle di Carriero. E' uno a uno. Si salva in qualche modo lo Spinazzola che resta tuttavia imbrigliato nella lotta per non retrocedere. Un pari che lascia un sapore diverso rispetto a quello di sette giorni fa contro il Barletta per il Brillacampi. La cui classifica resta tuttavia buona nel prossimo turno. Atletico Acquaviva, Brillacampi e Bitonto Spinazzola.